Si è conclusa senza gravi conseguenze la vicenda dell'incendio che ha colpito il capannone della ditta Tommolini a Martinsicuro presso la statale 16, una struttura di circa 1200 metri quadrati di superficie. I vigili del fuoco delle sedi di Teramo, Nereto, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto hanno infatti ultimato proprio ieri sera le operazioni di spegnimento di alcuni piccoli focolai presenti nella zona centrale dell'edificio dove si è verificato anche il crollo di un'ampia porzione del tetto con travi metalliche. A causa quindi delle precarie condizioni di alcune parti della struttura i vigili del fuoco stanno aspettando di accedere all'interno per procedere allo smassamento del materiale combustibile parzialmente bruciato. Ed oggi il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ha firmato un'ordinanza contingibile ed urgente inerente alle misure di sicurezza precauzionali. Nell'ordinanza si specifica come in via precauzionale è considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti da parte degli enti coinvolti, vigili del fuoco, ARTA e servizi ASL competenti al fine di verificare la possibile natura delle sostanze emesse in area a seguito dell'incendio. I cittadini di Martinsicuro residenti nell'area circostante a un raggio di un chilometro dall'area dovranno rispettare la chiusura delle aperture, porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi al fine di prevenire un possibile passaggio di sostanze inquinanti compresi gli impianti di areazione forzata. Ci sarà poi il divieto in attesa di acquisire le rilevazioni degli enti competenti di raccolta e di consumo di verdura, foglia e di foraggio per animali. Il servizio veterinario igiene ed alimenti di origine animale dell'ASL di Teramo effettuerà con urgenza un sopraluogo presso gli stabilimenti di produzione di alimenti ubicati nelle zone limitrofe dell'edificio e comunicherà ovviamente all'ente l'esito. La macchina comunale e l'amministrazione tutta restano a disposizione della cittadinanza per ogni chiarimento, ha così dichiarato il primo cittadino troentino Massimo Vagnoni.